Le nuove Le antiche emergenze della Napoli sotto il segno del leone, questo è il tema della nostra conversazione con Francesco Borrelli, coordinatore regionale dei Verdi. Borrelli oltretutto è un leone, ci azzecca poco con le emergenze cittadine. Iniziamo dalle blatte, il tema problema blatte, allarme in molti quartieri e c'è poi la questione del veleno che alcuni cittadini mettono sulle strade, ai margini dei marciapiedi. Beh, innanzitutto cominciamo a dire una cosa chiara sulla vicenda delle blatte, non è certamente un allarme mondiale, però non è vero che non esiste il problema. Il problema delle blatte esiste e storico, prima avevamo i famosi scarrafoni napoletani, sono stati superati dall'arrivo di queste blatte, pare che arrivino dalle isole Eole, ma non è sicuro al 100%, sicuramente sono molto più prolifere, abbiamo avuto delle nidate incredibili, probabilmente dovute anche al fatto che la città è particolarmente sporca, almeno nelle parti sotterranee e non è stata fatta la disinfestazione da parte del comune dell'Asa nei tempi in cui bisogna realizzarla, perché la disinfestazione va fatta quando si realizzano le nidate, quando si fanno le uova, non adesso, adesso sono molto più resistenti agli agenti chimici e quindi molti quartieri che noi stiamo monitorando, da Fuorigrotta a San Ferdinando, ad esempio il pallonetto di Santa Lucia, la stessa Piazza Carolina, alcune realtà, alcune istituzioni sono auto-organizzate perché l'Asa e il comune non sono state ancora in grado di intervenire, faccio un esempio su tutti la prefettura che aveva le blatte che entrava dentro i suoi uffici di rappresentanza a Piazza Carolina, Scampia, San Giovanni a Teduccio, insomma tanti quartieri sono in grande difficoltà, soprattutto ovviamente i quartieri dove ci stanno molti bassi e cioè dove la gente facilmente ha la possibilità che questi animali gli entrino dentro casa. Rimedio il veleno sulle strade, è un'operazione legittima? Beh innanzitutto io suggerisco, lo so, qualche animalista mi ha criticato in questi giorni perché sto supportando e segnalando e aiutando le istituzioni nelle deblattizzazioni che sto uccidendo degli animali, vuol dire diamo un limite pure all'animalismo, nel senso che difendere le blatte che che siano anche loro creature di Dio, insomma in questo momento sono tante, quindi bisogna ridurle un pochettino perché se no diventano un problema, non sono animali aggressivi, ad oggi non abbiamo, almeno ad oggi non abbiamo situazioni per cui abbiano portato delle infezioni all'interno delle famiglie. Io suggerisco se il numero di blatte non è eccessivo, cioè se è qualche piccolo caso di utilizzare il buon vecchio metodo della nonna, cioè schiacciarle, mentre invece se il caso diventa più complicato, è leggermente costoso, ma se non si vuole aspettare l'arrivo del comune è meglio chiamare sempre personale specializzato perché non soltanto quando la deblattizzazione viene fatta con metodi fai da sé, fai da tempo, danneggiare o creare dei problemi agli animali, ai randaggi, ma anche non randaggi, animali che vengono portati al guinzaglio da qualche parte e che annusano o mangiano questi agenti, ma può creare anche problemi ai bambini e a noi stessi, perché sono comunque degli agenti chimici fortemente aggressivi e fortemente dannosi alla salute. Sicuramente però questo allarme è stato sottovalutato e non è stato fino ad oggi ben gestito, come d'altro non ne sappiamo tutti che sta riemergendo non in modo drammatico ma in modo serio il problema dei cumuli seri in molti quartieri sempre gli stessi di spazzatura. Veniamo al tema degli abbandoni di animali umani e non umani, si parcheggiano gli anziani negli ospedali ed è un abbandono temporaneo, mentre poi vi sono gli abbandoni definitivi degli animali domestici, molti padroni dimenticano che l'animale che si ha in casa fa parte integrante della famiglia. La regione Campania è un triste primato, è la regione dove si sta il maggior numero di abbandoni, ogni anno dove sono il maggior numero di animali vittime di azioni criminali o di atti di violenza. Noi stiamo tentando da anni di non avere più questo triste primato, ad oggi non ci siamo riusciti. Io penso che bisogna arrivare a delle denunce forti anche dal punto di vista penale, anche con la detenzione per chi maltratta gli animali, perché chi si assume la responsabilità di prendere in casa un cucciolo è come se adottasse un bambino e questo bambino comporta delle responsabilità, non è soltanto un giocattolo, molto spesso gli animali vengono scambiati per giocattoli, allora uno lo tiene finché non crea problemi, oppure se ha dei problemi di salute o un incidente, insomma questi animali vengono trattati come dei giocattoli rutti e soprattutto nel periodo estivo assistiamo alle cose più drammatiche e sporche dal punto di vista umano e nel comportamento nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Io do questo consiglio anche a chi non è in grado di voler continuare a tenere un animale di rivolgersi alle associazioni di categoria, ce ne sono diverse in Campania, e chiedere l'adozione di questo animale perché non lo si può più mantenere. Due, per coloro che vedono, assistono ad abbandoni, noi li preghiamo, non chiediamo di intervenire voi, anche se sarebbe un bel gesto, fateci avere la targa della macchina perché è un reato che noi poi perseguiamo. La terza cosa, non lasciate che gli animali vengano abbandonati, soprattutto quando sono agli angoli delle strade legate ai guinzagli perché molto spesso questi animali con il rischio di morire di sete o di fame perché rimangono per diverse ore, se non qualche volta, per giorni, attaccati a quel guinzaglio. Ovviamente soffrono e sono esposti al sole e alle intemperie. L'abbandono degli animali è una delle cose più brutte che si possa commettere nei confronti non solo dei nostri amici a quattro zampe, ma anche nei confronti dell'umanità perché creiamo un atto di violenza gratuito nei confronti di animali, di persone indifese. C'è poi la vertenza aperta nel caso del rifugio La Fenice. E' vertenza che non è stata ancora risolta purtroppo, noi sosteniamo con forza La Fenice come tante altre realtà associative che fanno un lavoro egregio, mi riferisco anche al rifugio del cane che sta da Gnano, tante altre realtà, chi ha convenzioni che non gli vengono pagate da anni e anni, chi come La Fenice addirittura non ha convenzioni, cioè svolge questa funzione solo e esclusivamente a carattere gratuito con le donazioni dei propri soci e voglio dire se il comune non li mette in condizioni di operare noi ci troviamo in due condizioni drammatiche. La prima è che questi animali corriamo il rischio che possano non avere di che mangiare, di che sopravvivere. La seconda è che questi animali vengano rimessi in libertà e possano morire o creare ulteriori problemi, soprattutto parlo degli animali che spesso sono accolti in questi rifugi che sono anziani o hanno problemi di salute, quindi sono alla fine della loro vita o animali che hanno avuto dei problemi sociali nei rapporti con l'uomo e quindi è bene che in ogni caso continuino il loro percorso di vita in un modo tale che non siano a contatto con l'uomo perché possono essere pericolosi. Se viene gestito il rapporto con l'animale in modo intelligente da chi lo sa fare non crea problemi, il problema siamo sempre noi quando non sappiamo come comportarci nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Che mare quest'anno si ritrovano i napoletani? Io credo che a Napoli sia stato fatto un buon lavoro nel passare degli anni, io credo che abbia avuto anche grandi meriti noi verdi perché abbiamo seguito un grande lavoro di chiusura e denuncia nei confronti di scarichi abusivi. Mi lascio un po' più perplesso la balneabilità che hanno dato ad alcune zone, mi riferisco in particolare a zona dei campi flegrei dove di fatto non c'è stato ad oggi un intervento coggente da parte delle amministrazioni comunali per bloccare o per chiudere degli sversatoi abusivi e quindi non riesco a capire com'è possibile che senza interventi alcune zone siano risultate balneabili. Non a caso noi ci troviamo in questi giorni in zone anche vicino al depuratore di Cuma che noi vogliamo sapere se è inquinante o meno, se funziona bene o meno perché non l'abbiamo ancora capito. Quello che noi vediamo che esce dal depuratore, abbiamo fatto diversi sopralluoghi in queste settimane, è un'acqua marrone putrida e fetida che a noi non sembra per niente balneabile e depurata, però noi non siamo dei tecnici, ci affidiamo all'ARPAC, però i dati che escono dall'ARPAC ci sembra un po' surreali e se l'ARPAC ritiene che determinate acque siano balneabili e sono marroni, sporche, puzzolenti, allora io chiederei ai funzionari e ai dirigenti dell'ARPAC di dare il buon esempio e di farsi loro per primi il bagno assieme ai sindaci in quelle acque, in modo tale che ci tranquillizziamo tutti e vuol dire che abbiamo scoperto il nuovo mare fetoso della Campania. Se invece come noi riteniamo alcune zone indipendentemente da tutte non sono balneabili e sono state date la balneabilità per altri motivi, è bene che la regione Campania rifaccia le analisi e perimetri meglio queste acque balneabili, con ovviamente un dato che noi sottolineiamo, ad oggi vergognosamente non è stato ancora risistemato e rimesso seriamente in funzione il sistema di depurazione delle acque della nostra regione, con dei casi surreali come il depuratore di Cuma, dove noi continuiamo a vedere acque non buone dal nostro punto di vista e alcune realtà come l'isola di Ischia dove non c'è il depuratore, ho sentito in questi giorni lamentele di persone, di istituzioni, addirittura dei commercianti che dicevano una vergogna per come funziona male il depuratore di Ischia, io do una notizia, a Ischia non c'è il depuratore, quindi tutto quello che succede è perché gente, alberghi, strutture pubbliche o private sversano direttamente in acqua e finché non smetteremo di buttare tutto in mare, noi un mare perfetto e fantastico come c'è in alcune zone della nostra provincia non potremo averlo. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione, tacquino politico della Campania, scusate il telefonino, come sempre tornerà domani alla stessa ora.